In ogni società, in ogni paese e in ogni epoca ci sono angoli bui che spuggono allo sguardo, punti ciechi e zone d'ombra in cui la luce di tutti i giorni non arriva. Soprattutto per quelle società, quelle epoche, quei paesi che si ritengono più sani, più felici ed innocenti e che proprio quelle zone d'ombra hanno deciso di ignorare, stabilendo un confine oltre il quale non è più lecito, non è più raccomandabile spingere lo sguardo. E invece è proprio lì che si annidano gli incubi che turbano i sonni dell'infanzia più innocente. Ogni epoca, ogni luogo, anche l'Italia ha il suo incubo, il suo serial killer. Quando vedo il sangue perdo la testa. È che sono sfortunato. Ci sono momenti in cui c'è sempre un telegiornale acceso da qualche parte. Nelle case, nei bar, nelle autoradio delle macchine. È come una colonna sonora, la voce dello speaker nello studio, chiara, netta, quella più lontana del giornalista in collegamento, confusa dai rumori di fondo. Ovunque, anche fuori, anche in campagna, in qualche modo si sente parlare. Il 1978, dal 16 marzo, è uno di quei momenti in Italia. Il presidente della democrazia cristiana, Aldo Moro, è stato rapito da un commando delle Brigate Rosse, che ne ha anche sterminato i cinque agenti di scorta. Sui giornali, in televisione, alla radio, non si parla praticamente d'altro. È una di quelle notizie che fanno la storia, con la S maiuscola, e spingono le altre più lontano. Storie, storie più piccole, storie con la S minuscola, storie che stanno ai margini delle cose e che sembrano, per questo, meno importanti. Sembrano. È così anche il 10 aprile di quell'anno, venticinquesimo giorno del rapimento di Aldo Moro. Il telegiornale si sente ovunque, anche a Genova, anche fuori, anche in campagna. È lì, in una stradina della campagna genovese, che viene ritrovato il corpo di una donna. È stata ammazzata a colpi di pietra, le hanno spaccato la testa e tutto attorno è pieno di sangue. È seminuda e ha qualcosa sulla schiena, una scritta, fatta con una penna rossa e chi l'ha usata poi l'ha infilata tra le natiche della povera ragazza. Bricate Rose Scritto così, male e con quegli errori. Bricate Rose. Non ci crede nessuno che ad uccidere Anna Pagano, giovane prostituta tossicodipendente, e a ucciderla così, spaccandole la testa, siano state proprio le Brigate Rosse. Quello non è un delitto politico. Quello è un delitto a sfondo sessuale. Una storia di violenza, prostituzione e droga. Una storia di quelle più piccole, rispetto a quello che sta accadendo in quei mesi, la grande storia con la S maiuscola. Che c'entra con tutto questo la povera Anna? La sua è una di quelle storie che stanno in margine. Poi però succede un'altra cosa, una cosa brutta. Il 19 luglio, in un altro bosco, vicino a Bolzaneto, sempre vicino a Genova, viene trovato il corpo di una ragazzina di 14 anni. E' appesa un albero, impiccata col tirante di un portapacchi, come se si fosse suicidata. Ma anche qui non ci crede nessuno. Perché prima, la povera Maria Catena Alba, detta Tina, è stata violentata e sodomizzata. Passa soltanto un mese, e alla fine di agosto del 1978, eccone un'altra, la terza. In un altro bosco, vicino a Genova, una ragazza nuda, coperta soltanto da foglie, e visto il caldo torrido di quell'anno, in avanzato stato di decomposizione. A ritrovare così Maria Strambelli, giovane commessa di 21 anni di origine barese, è il fratello, che la stava cercando da nove giorni, quando era uscita una sera per andare in discoteca e non era più tornata. Non si può dire se sia stata violentata come le altre. Però adesso, i magistrati che coordinano le indagini, la polizia e anche la stampa, cominciano ad avere una strana sensazione. Anna, Tina, Maria. Sono già tre le ragazze uccise nello spazio di pochi mesi. E anche se per Maria non si può dire niente, visto lo stato del suo corpo, le altre due hanno una caratteristica in comune. Quando sono state uccise, avevano le mestruazioni. Non mi sono reso conto di quanto ho fatto, perché quando vedo il sangue delle mestruazioni non capisco più niente. 3 dicembre 1978. Ce n'è un'altra. È giù, in una piccola scarpata che costeggia la ferrovia Genova-Milan. Una giovane ragazza violentata e strangolata, nascosta sotto un plaid buttato sul suo corpo seminudo. Wanda Sherra, 19 anni, commessa. E anche lei, quando è stata uccisa, aveva le mestruazioni. Anna, Tina, Maria e adesso anche Wanda. Saranno storie più piccole. Storie con la S minuscola, ai margini di quella più grande che cambia le nazioni. Il sostituto procuratore Mario Sossi, per esempio, che indaga Suttina, qualche anno prima era stato rapitto dalle Brigate Rosse. Saranno anche storie che sembrano, sembrano, meno importanti. Storie che sono fisiologia criminale della metà oscura della società, donne uccise. Però adesso tutte quelle storie si sono fuse assieme e tornano dai margini per fare paura a tutti. Perché adesso non è più soltanto una sensazione. Ora è praticamente una certezza. A Genova c'è un serial killer. Questa volta, però, l'assassino ha commesso un errore. Quel plaid che ha usato per coprire il corpo di Wanda lo ha preso da un'auto. Un'auto rubata qualche ora prima. La stessa su cui la ragazza era stata vista salire, appena prima di scomparire. E sul momento nessuno ci aveva fatto caso, perché lei sembrava non avere nessun timore. E l'uomo al volante sembrava un amico. Ci sono liste e schedari negli uffici di polizia. Allora, nel 1978, internet non esisteva. Non esistevano i computer. E i database condivisibili in rete erano soltanto, forse, nella fantasia di qualche scrittore di fantascienza. Però, c'erano liste e schedari, faldoni e classificatori. E, oltre agli archivi, la memoria dei singoli investigatori. I ladri d'auto, per esempio. Quelli con precedenti specifici o anche soltanto quelli conosciuti dalla polizia. Ecco, tra i ladri d'auto che agiscono a Genova e dintorni, ce n'è uno, specializzato in piccole utilitarie Fiat, come le 500 e le 850. Ruba soltanto quelle, anche perché sono le uniche che sa guidare. Ha imparato da solo, senza la patente. Si chiama Maurizio Minghella. E la polizia lo ritiene particolarmente interessante. Mio padre non l'ho mai conosciuto. Sono solo che era un'alcolizzato. Come mio patrigna. Ci picchiava di brutto. Anche mia madre. Lo odiavo moltissimo. Spesso, spesso ho sognato di ucciderlo, stringendogli una corda al collo. Da dietro le spalle. Maurizio Minghella nasce a Bolzaneto, vicino a Genova, nel 1958. Nasce con un parto cesareo difficile, che gli provoca un lieve ritardo nello sviluppo psicomotorio. Allora, dalla metà degli anni 60 al 1977, quando finalmente vengono abolite, c'erano in Italia le scuole speciali, le differenziate le chiamavano, riservate a bambini con handicap o problemi dello sviluppo. Il piccolo Maurizio finisce alle differenziate, dove ripete per nove anni la seconda elementare. Nove anni fermo nella stessa classe, senza mai riuscire ad andare oltre. La scuola, ovviamente, non gli piace. In classe è violento e manesco, e si diverte a prendere per il collo i compagni, impedendogli di respirare. Crescendo, non riesce a trovarsi un lavoro stabile. Per un po' fa il piastrellista, ma è soltanto una parentesi. Il più delle volte rubavo. Poi sono andato militare, a Cagliari. Non mi piaceva. Mi facevano esami, fili elettrici attaccati al corpo. Sono fuggito. Maurizio è un ragazzo di strada, un piccolo bullo di periferia. Ci sono solo due cose che gli piacciono veramente. La prima è ballare. Quelli sono gli anni della disco music, gli anni dei pantaloni stretti in vita e larghi in fondo a zampa d'elefante, delle camicie con colletto a punta aperte sul petto, gli anni di John Travolta. E infatti lui lo chiamano il travoltino della Val Polcevera, che sta vicino a Genova. La seconda cosa sono le donne. Ho avuto cento donne. Voglio arrivare a mille. Maurizio se ne va in giro pieno di gel sui capelli e con la sua fama da playboy. Un metro e sessanta di altezza, muscoloso e con il naso rotto. Per un po' Maurizio ha tirato di box in una palestra della zona, ma l'hanno cacciato via perché picchiava troppo forte. Oltre alle ragazze che incontra nelle balere, Maurizio frequenta tossicodipendenti e prostitute. Donne che vivono ai margini, storie con la S minuscola, storie che sembrano, sembrano, meno importanti. Le incontra negli ambienti poveri e un po' degradati della periferia di Genova. Con una di loro nel 1977 si sposa. Si chiama Rosa. Ha solo 15 anni ed è dipendente dagli psicofarmaci. Ecco, subito dopo il matrimonio succede una cosa. Rosa rimane incinta, ma al nono mese di gravidanza, all'improvviso, perde il bambino. Per Maurizio è un vero shock. Mi ritrovai davanti a una fontana. Grondava sangue. E immersi le mani per fermarla. Va bene, Maurizio è un ladro d'auto. Va bene, Maurizio è un tipo violento, ossessionato dal sangue. Ma c'è di più. Maurizio conosceva Wanda, l'ultima ragazza uccisa. E poi c'è un'altra cosa. C'è che alla fine dell'interrogatorio, dopo 38 ore, Maurizio confessa. La sera in cui ho ucciso Wanda era un martedì. Avevo rubato una macchina. Ero passato davanti al negozio in cui faceva la commessa. Le avevo chiesto se voleva un passaggio. E poi le avevo portato al piazzale della ferrovia. Dietro la centrale del latte. Tentai di avere degli approcci con la ragazza. Ma poiché lei non ci stava, le ditti un cazzotto nello stomaco e un altro in faccia. Poi tirai giù alla ragazza i calzoni e le mutande e devi con lei un rapporto. Dopo aver commesso il rapporto, senza rendermene conto, con la cinghia dell'impermeabile strangolai la ragazza. E così anche per Maria Strambelli, la giovane commessa barese conosciuta in discoteca. La uccide con una corda che si è portato dietro e poi la butta fuori dalla macchina, dietro un cespuglio. Non mi sono reso conto di quanto ho fatto, perché quando vedo il sangue delle mestruazioni non capisco più niente. Il giorno dopo accetta anche di portare gli investigatori sui luoghi dei due delitti e fornisce una serie di dettagli che trovano riscontri. Poi però, sei giorni dopo, a metà di dicembre, ritratta tutto. Dice che la confessione gli è stata estorta dalla polizia con la forza, che lo hanno picchiato e praticamente smette di parlare. È una ritrattazione alla quale credono in pochi. La magistratura ordina una perizia psichiatrica e la fida a tre professori dell'Università di Genova. Il professor Aldo Franchini, il professor Giorgio Chiozza e il professor Franco Giberti osservano Maurizio a lungo e con attenzione, anche se lui non collabora molto, nemmeno quando decidono di fargli il test per stabilire il suo quoziente intellettivo, che risulta di 70 punti, il che significa che le sue capacità mentali sono al limite inferiore della media. Secondo i professori che lo studiano, Maurizio Minghella è un soggetto immaturo e ansioso, con una personalità che presenta tratti di psicopatia, perversione e sadismo. Riscontrano anche problemi in campo sessuale, che gli provocano uno stato d'ansia e cefalea. A volte, poco prima di avere l'orgasmo, sento come un fortissimo bruciore alla testa. Come se mi dissero dei tremendi colpi di martello dentro la testa. Allora mi devo fermare un pochino. Ho bisogno di un po' di tempo per farmelo passare il bruciore. Poi posso riprendere e va tutto bene. Ho bisogno di avere l'orgasmo due volte al giorno. Non ho mai saltato un giorno. Ma soprattutto, per i professori che lo esaminano, in Maurizio Minghella non c'è traccia di patologie psichiatriche maggiori. Insomma, come scrivono nella perizia, Maurizio Minghella è uno psicopatico sessuale, ma è perfettamente in grado di intendere e di volere. Durante il processo, Maurizio Minghella si dichiara innocente di tutto quello che gli viene attribuito. E lo fa con una certa spavalderia, come se la cosa non lo riguardasse. La sentenza viene pronunciata il 3 aprile del 1981 e lui non va neanche in tribunale. La corte d'assise di Genova lo condanna all'ergastolo per tutti e quattro gli omicidi. Anna Pagano, Tina Alba, Maria Strambelli e Vanda Scerra. Lo mandano nel carcere di Porto Azzurro, sull'isola d'Elba, lontano, escluso per sempre da tutto, per sempre in margini di qualunque cosa. La sua torna ad essere una storia piccola, piccolissima, insignificante. Maurizio Minghella, serial killer, un nome da manuale di criminologia, destinato ad essere dimenticato dalla cronaca. Ma è davvero così? La campagna, appena fuori dall'uscita della tangenziale Collegno Pianezza, è uno di quei luoghi che stanno ai margini di tutto, una sorta di terra di mezzo, che non è ancora campagna, ma non è più città. È il 17 febbraio del 2001. C'è un contadino, che sta raccogliendo degli sterpi per fare una scopa e che a un certo punto vede qualcosa laggiù. Qualcosa di strano, di più, qualcosa di inquietante, ancora di più a mano a mano che si avvicina, qualcosa che fa paura. È il corpo di una donna, completamente nuda, ad eccezione di uno stivale al piede sinistro. Ha una calza Collant stretta attorno al collo e annodata ai polsi ripiegati sulla schiena. È stata incaprettata. Ha grossi ematomi sul volto e una profonda ferita sulla testa. Gliel'hanno spaccata con una pietra, una pietra insanguinata, che è ancora lì, vicino al suo corpo. Chi l'ha uccisa ha cercato di renderla irriconoscibile, cospargendone il corpo con miscela da motorino e dandole fuoco. Ma la cosa non ha funzionato, perché siamo in febbraio, fa freddo e l'umidità non scherza. Il fuoco si è spento e così è stato possibile darle un'identità. Si chiama Florentina Motok, detta Tina, ha 21 anni ed è originaria di una zona molto povera della Romania che sta al confine con la Moldavia e l'Ucraina. È in Italia da pochissimo e fa la prostituta e gran parte dei soldi che guadagna li manda ai genitori che si prendono cura di sua figlia di nemmeno due anni. Tina è stata uccisa, ma prima è stata violentata e poi è successa anche un'altra cosa, una cosa brutta. Nella cavità anale della ragazza viene trovato un pezzo di legno. La squadra mobile di Torino indaga su quello che ritiene un delitto a sfondo sessuale e fa subito un paio di cose. La prima è quella di verificare tra i casi precedenti tutti i delitti che riportino caratteristiche simili. Adesso siamo negli anni 2000, ci sono i computer, ci sono i database e c'è la rete, anche se la memoria degli investigatori resta un elemento essenziale. Così salta fuori un precedente, il nome di un uomo che ha già ucciso in quel modo, anche se al posto di un pezzo di legno ha usato una penna rossa. Maurizio Minghella. Ma come? Non era in carcere a Porto Azzurro, ai confini del mondo? Per 14 anni nel carcere di Porto Azzurro Maurizio si era dimostrato un detenuto modello, sempre disponibile, sempre di buon umore. Lo dicono i compagni di Cella, lo dicono gli agenti di custodia, lo dicono tutti. E così alla fine del 1995, 14 anni dopo, Minghella lascia l'isola d'Elba e viene trasferito a Torino al carcere delle vallette. Anche lì è un detenuto dalla condotta esemplare, così gli viene concessa la semilibertà e Maurizio può cominciare a rifarsi una vita. Per la prima volta ha un lavoro vero che prende molto seriamente. Viene assunto da una cooperativa che lavora in legno per realizzare arredamenti d'esterno e poi anche giocattoli e giostre per bambini. La disponibilità che Maurizio dimostra, la sua professionalità sul lavoro e anche il suo carattere aperto gli guadagnano subito l'affetto e la fiducia dei colleghi e anche dei responsabili della cooperativa. Ogni mattina prende il motorino e dal carcere delle vallette attraversa tutta la città fino ad arrivare al luogo in cui si trova la cooperativa. Lì lavora fino alle 5 e poi è libero di andare dove vuole fino alle 20 quando deve rientrare in carcere. Ha preso in affitto anche un piccolo appartamento alla periferia nord di Torino in cui trascorre le ore libere dal lavoro e dal carcere. Così incontra una giovane donna che diventa presto la sua compagna e dalla quale nel luglio del 1997 ha anche un figlio. Da quel momento gli danno il permesso di rientrare in carcere alle 22 anziché alle 20. Insomma tutto bene. Quasi. La giovane compagna di Maurizio ha problemi di droga ed è lui a trovargliela. La compra probabilmente intorno alla stazione di Porta Nuova e a San Salvario che in quegli anni è ancora una zona di disagio tossicodipendenza prostituzione una zona che un detenuto in semilibertà come Maurizio Minghella non dovrebbe frequentare. Poi la loro storia finisce. Finisce male tanto che nel novembre del 1999 la ragazza scrive al magistrato di sorveglianza raccontando che Maurizio Minghella commette rapine frequenta pregiudicati e prostitute con problemi di droga. Ma sembra più uno sfogo che una vera denuncia e nessuno la prende sul serio. Io sono uno che lavora che passa il tempo libero con la famiglia e che risponde agli obblighi di legge. Maurizio incontra un'altra donna Maristella con la quale va a convivere quasi subito in un appartamento in periferia non lontano dal carcere. Maristella è una ragazza semplice con un passato difficile anche qui una storia di violenza e di droga. Lei e Maurizio si incontrano e si innamorano praticamente subito e ancora una volta sembra che vada tutto bene quasi. All'inizio di settembre del 2000 ad Alpignano una giovane prostituta albanese viene avvicinata da un uomo in motorino che lei respinge perché lui si rifiuta di togliersi il casco e di farsi vedere in faccia. La giovane si appunta la targa del motorino su un foglietto e lo nasconde dietro a un muretto. Il giorno dopo l'uomo ritorna e questa volta accetta di alzarsi parzialmente il casco. Va bene allora la ragazza accetta di andarsene con lui e l'uomo la porta in una zona isolata. Poi però le strappa la borsetta la deruba e cerca di avere con lei un rapporto non protetto. Lei si rifiuta e allora lui diventa violento e cerca di ucciderla. Si ferma soltanto perché arriva una donna con un bambino a quel punto l'uomo scappa. La ragazza albanese recupera il foglietto con sopra il numero di targa del motorino sporge denuncia e fa anche una descrizione molto minuziosa del suo aggressore. Figurati la targa di un motorino sarà sicuramente rubato e invece no il motorino non è rubato ed è in possesso del suo proprietario che si chiama Maurizio Minghella. Io non ho fatto nulla ma che rapina se frequentassi le prostitute potrei anche capire di essere coinvolto ma io sono uno che lavora che passa il tempo libero con la famiglia e che risponde agli obblighi di legge. Maurizio viene interrogato e dice che il motorino gli è stato rubato come gliene sono stati rubati altri in quegli anni. Non ha sporto denuncia perché tanto è inutile. Anche Maristella lo difende. Dice che è un uomo molto allegro che si fa benvolere generoso tranquillo e pieno di attenzioni anche per il suo bambino. La polizia continua ad avere dei dubbi e continua ad indagare. Ci sarebbe bisogno di quella ragazza albanese ma è irreperibile. La polizia la cerca e nel marzo del 2001 la trova. La ragazza viene messa a confronto con tre uomini e riconosce immediatamente il suo aggressore. È Maurizio Minghella che così torna in carcere nonostante continui a proclamarsi innocente. Adesso convivo con Maristella da quando c'è Maristella non vado con altre donne mi trovo bene negli ultimi due anni vita tranquilla non ne so proprio niente di queste cose qua sono cose da giudici non riesco a capire ce l'hanno con me. Nel frattempo nel febbraio del 2001 un mese prima era stato ritrovato il corpo di Tinamoto alla periferia di Torino. La polizia mette insieme i precedenti di Maurizio la denuncia della giovane albanese e anche altri indizi che lo accusano. Durante le perquisizioni a tappeto che la polizia effettua a casa di Maurizio e all'interno del suo motorino saltano fuori catenine braccialetti gioielli e diversi cellulari con il numero di matricola cancellato. Uno di questi è quello di Tina ma non solo ci sono anche le suole delle scarpe di Maurizio che sono sporche di terra e dei residui di una pietra che si chiama Peridotite una roccia piuttosto rara nel torinese ma presente in abbondanza nel canale prosciugato di Pianezza dove è stato ritrovato il corpo di Tina. Va bene gli indizi a carico di Maurizio Minghella sono tanti ma c'è qualcosa che non torna. Le indagini dimostrano che Tina Motoc è morta prima delle ore 17 del 9 febbraio. A quell'ora Minghella doveva trovarsi al lavoro e dai primi controlli in cooperativa sembra proprio che sia così. Sembra addirittura che fosse in trasferta da Alpignano per un incarico. Io sono uno che lavora che passa il tempo libero con la sua famiglia e che risponde agli obblighi di legge. Poi quello è il mio passato. È facile accusarmi di queste cose. È che sono sfortunato. La squadra mobile di Torino insiste e scopre un buco nell'alibi di Maurizio. Quella mattina la mattina del 9 febbraio 2001 aveva telefonato dicendo di non sentirsi bene e di non poter andare al lavoro. In quel caso sarebbe dovuto tornare in carcere ma i responsabili della cooperativa avevano chiuso un occhio. Si fidavano di lui perché era uno volenteroso uno che si era fatto voler bene da tutti come quando stava in carcere. Era così Maurizio. Nonostante quello che era successo tanti anni prima sembrava davvero un'altra persona. Ecco non dimentichiamoci di una cosa. Non dimentichiamoci che mentre stiamo raccontando la storia di Maurizio Minghella serial killer stiamo raccontando anche tante altre storie la storia delle sue vittime per esempio storie con la S minus perse in una storia più grande ma che forse così marginali così poco importanti così piccole non sono. La fanno loro la storia con la S maiuscola e molte volte in maniera drammatica. Il corpo di Tina Motok per esempio rimane in una cella frigorifera all'obitorio di Torino per più di un anno. La famiglia che sta in Romania non ha i soldi per venire in Italia e fare il riconoscimento necessario. A quel punto interviene il gruppo Abele da sempre impegnato in attività di sostegno e di recupero degli emarginati che si impegna a pagare le spese del viaggio dei familiari e anche le spese del funerale di Tina a cui viene invitata tutta la città. Più di 500 persone arrivano a dare l'ultimo addio ad una giovane donna che è diventata un simbolo il simbolo di tante ragazze che vengono in Italia a cercare speranza e ci trovano invece povertà violenza e spesso anche la morte. Attorno alla bara ci sono tutte le autorità cittadine le forze dell'ordine ma ci sono anche tante persone comuni ci sono giovani vecchi e bambini che tengono per mano i loro genitori per un giorno i confini i margini sembrano annullati. Ecco, se raccontiamo una storia come questa la storia di Maurizio Minghella serial killer è anche per raccontare tutte quelle altre storie storie che sembrano più piccole sembrano ma non lo sono La polizia ha fatto un complotto io il cervello ce l'ho a posto a me non viene il raptus Maurizio si dichiara innocente ma né la polizia né la procura di Torino gli credono dagli scaffali vengono tirati fuori i faldoni di vecchi delitti irrisolti omicidi di donne che potrebbero avere a che fare con lui come per esempio la donna sconosciuta di Carmagnola il 20 agosto del 1996 in una strada di campagna che andava verso le cave di Provana era stato trovato il corpo di una donna semicarbonizzato supina seminuda con le braccia e le gambe divaricate addosso alcuni residui di indumenti ha una ferita profonda alla testa ed è stata soffocata dal momento che è impossibile identificarla la polizia e la stampa la chiamano la donna sconosciuta di Carmagnola o la donna col corpetto rosso oppure come Fatima Didù il 24 maggio 1997 a Casellette in provincia di Torino viene ritrovato il corpo di una giovane ragazza steso a terra a faccia in giù con gli slip e i pantaloni abbassati sulle gambe l'assassino le ha girato quattro volte un cordone attorno al collo e poi ha fatto due nodi molto stretti la strangolata dopo aver avuto un rapporto sessuale con lei si chiama Fatima Didù a 27 anni è arrivata in Italia al Marocco qualche tempo prima e per vivere si prostituisce all'interno della sua coscia destra viene trovato un preservativo usato da cui in seguito emergerà un profilo genetico compatibile con quello di Maurizio Minghella la donna sconosciuta di Carmagnola Fatima oppure Gina Cosima Guido detta Gina è una donna di 66 anni fa la prostituta ed esercita in un piccolo appartamento di piazza 4 Marzo a Torino ha un marito che fa il barista e non sa dell'attività della moglie perché esce presto la mattina e torna tardi la sera e pensa che sua moglie si guadagna i suoi soldi facendo le pulizie a casa della gente il 30 gennaio 1999 il marito di Gina rientra a casa la sera non la trova e così la cerca nel quartiere chiede a conoscenti se l'abbiano vista e in quel momento scopre che Gina ha una stanza in quell'edificio sporco e faticiente di piazza 4 Marzo quando il marito di Gina apre la porta di quella stanza sconosciuta indicatagli dal gestore di una trattoria lì vicino la trova sdraiata sul letto immobile ha le gambe a penzoloni ed è completamente vestita indossa anche il cappello e gli occhiali i pantaloni sono leggermente abbassati come anche gli slip Gina è morta probabilmente qualche ora prima per asfissia meccanica da strangolamento attorno al collo ha un foulard legato stretto con due nodi prima di ucciderla l'assassino l'ha ripetutamente colpita sulla testa e sul volto sul copriletto sul lenzuolo e su un asciugamano lasciato di vicino c'è molto sangue tutto della vittima nel cestino della spazzatura e anche in un sacchetto vengono trovati tre preservativi usati e 26 strappi di carta assorbente tipo scottex a cartocciata di quella usata dai clienti dopo i rapporti ce ne sono anche altri due pezzi sulle scale fuori dalla stanza di Gina tutto questo materiale viene analizzato si ricavano sette profili genetici non identificati e uno noto quello di Maurizio Minghella che nega decisamente tutto quello che gli viene attribuito la polizia ha fatto un complotto io il cervello ce l'ho a posto a me non viene il raptus è possibile che ammazzo una persona e poi non mi ricordo io sono sicuro di non averlo fatto io la condanna me la prendo però sugli omicidi prove su di me non ce ne sono hanno fatto uscire un caso Minghella il processo si apre il 22 novembre del 2002 presso la prima sezione della corte d'assise di Torino il pubblico ministero Roberto Sparagna contesta a Maurizio Minghella quattro omicidi quello della donna sconosciuta di Carmagnola quello di Fatima Didù quello di Gina Guido e quello di Tina Motoc durante il processo vengono prese in esame anche le testimonianze di altre donne che dicono di aver subito violenza da Maurizio Minghella tra queste ce n'è una di origine albanese che racconta un'aggressione durata quattro ore e avvenuta nel maggio del 1999 la ragazza si salva per miracolo dice che Minghella dopo averla trascinata in un bosco nei pressi di Giavena avrebbe voluto ucciderla più volte sta per farlo e più volte cambia idea la violenta la colpisce ripetutamente con le mani la ferisce con un coltello mentre cerca di costringerla la ragazza è spaventata ma continua a parlare con lui le chiede di lasciarle gli slip e il passaporco così se l'ammazza almeno non la trovano nuda e sono in grado di riconoscerla e poi ha come un lampo di genio si finge affascinata gli dice che da tanto tempo aspettava un uomo come lui lo vorrebbe come protettore uno così che non ha paura di niente nemmeno della polizia Minghella non le crede continua a ripeterle che le puttane sono tutte bugiarte ma intanto in quelle quattro ore da incubo si calma e le racconta anche tante cose si vanta delle donne che ha ucciso quella che ha ammazzato e poi bruciato e quell'altra a casalette ti ricordi quella ragazza che è stata ammazzata e poi bruciata sono stato io hai capito e quell'altra ragazza lì a casalette hai sentito l'ho ammazzata io comincia a venirmi il dubbio di aver fatto qualcosa e non ricordarmi sono preoccupato mi diano una medicina per vedere se realmente sia stato questo mi piacerebbe capire se ho qualcosa se ho questo raptus ma se io fossi matto perché non mi succede con la mia ragazza avrebbero trovato morta anche la mia ragazza no? mi ha scombinato la testa questa cosa qua cosa li abbia convinti che io abbia fatto ammazzato prostitute fin dall'inizio del processo Maurizio si rifiuta di andare in aula a parlare si è sempre proclamato innocente anche con il legale che gli è stato assegnato d'ufficio e che durante tutto il processo riuscirà a parlare con Minghella soltanto una ventina di minuti avvocato gli dice Maurizio che ci vado a fare in tribunale o la quinta elementare la linea difensiva tentata dall'avvocato è quella dell'incapacità di intendere e di volere è il momento di un'altra perizia psichiatrica che viene disposta dal giudice per le indagini preliminari ad osservare Maurizio Minghella questa volta sono i professori Enzo Bosco Franco Freiloni e Salvatore Luberto dell'Università di Torino si leggono tutto la storia familiare i diari scritti in carcere anche le tante lettere che Minghella scrive soprattutto alla prima convivente la madre di suo figlio sono solo come un cane mi trattano male ti prego amore vieni a trovarmi aiutami durante il colloquio ti dirò tutta la verità ti perdono per quello che hai detto alla polizia ti avranno costretto non posso più stare in isolamento da mesi e mesi sono chiuso in questa cella non mi fanno lavorare non posso neppure inviarti un soldo per il bambino non posso più vivere se non posso vederlo almeno una volta i professori studiano la perizia precedente quella di Genova che non evidenziava patologie psichiatriche ordinano nuovi test clinici che però non evidenziano disturbi organici soprattutto cercano di parlare con lui di farsi raccontare qualcosa dicono che la gestione che Minghella ha delle emotività e dell'affettività è molto discontinua che riesce ad esprimere sentimenti reali soltanto per la madre per il resto è solo aggressività e odio soprattutto nei confronti del patrigno e del pubblico ministero Sparagna Maurizio Minghella sceglie le sue vittime prevalentemente tra le prostitute perché sono più facili da raggiungere perché sono esposte su di loro esercita una rabbia che viene da lontano e che non riesce ad esprimere in modo diverso una rabbia che viene dalla sua infanzia i periti dicono che la violenza che scarica contro le donne è un'aggressività che lui sente nei confronti della madre che non lo ha protetto dalla violenza del padre e del patrigno la loro conclusione è che Maurizio Minghella non è né psicotico né schizofrenico ma un disturbo della personalità che lo rende antisociale e borderline la sua psiche è in margini ma secondo i giudici non è un serial killer quando vedo quando vedo il sangue perdo la testa perché sono sfortunato ci sono anche due esperti che esaminano Maurizio per conto della difesa il professor Francesco Bruno e il professor Paolo De Pasquali dell'università La Sapienza di Roma in Maurizio riscontrano due aspetti patologici un ritardo intellettivo presente fino dalla nascita e un disturbo ossessivo compulsivo con evidenti manifestazioni di ipersessualità parlano anche di necromania insomma secondo loro Maurizio Minghella è un serial killer che uccide per soddisfare il suo bisogno di un rapporto diretto con la morte il processo di primo grado si conclude il 5 aprile del 2003 Maurizio Minghella viene condannato all'ergastolo per l'omicidio di Tina Motoc e ha 30 anni di reclusione per gli omicidi di Fatima Didù e di Cosima Guido che in virtù dell'aggravante e della continuazione diventano a loro volta un altro ergastolo per l'omicidio della donna sconosciuta di Carmagnola viene invece assolto per mancanza di prove in più per le numerose violenze e aggressioni compiute tra il 1996 e il 2001 accumula altri 131 anni di reclusione Maurizio non è in tribunale ad ascoltare la sentenza ed apprende della condanna in carcere dalla televisione una notizia tra le tante che in quei giorni affollano in telegiornale è appena scoppiata la guerra in Iraq l'Italia ha mandato i suoi soldati a combattere Saddam Hussein la storia con la S maiuscola qualche mese prima fingendo un malore era anche riuscito a fuggire Dabiella aveva cercato di raggiungere Torino con un treno merci era sparito per nove ore poi la polizia l'aveva ripreso e riportato in carcere aveva dei conti da regolare con persone che lo avevano tradito o incastrato lo dice lui naturalmente primo fra tutti il pubblico ministero Roberto Sparagna meno male per lui che mi avete preso perché altrimenti una pallottola in fronte non gliela levava nessuno il 30 settembre presso la corte d'assise d'appello di Torino c'è la sentenza di secondo grado che mantiene il primo ergastolo ma gli toglie il secondo perché non riconosce la continuità come aggravante tra gli omicidi Maurizio Minghella ha fatto anche altro ha violentato aggredito rapinato ma senza uccidere per la corte non c'è continuità neppure tra gli omicidi del 1978 e questi ultimi Maurizio Minghella insomma è un criminale ma non è un serial killer la difesa fa ricorso puntando sempre sull'incapacità di intendere e di volere ma il 23 settembre del 2005 la corte di Cassazione rigette il ricorso confermando la sentenza d'appello nell'operato di un serial killer dicono le sentenze dovrebbe sempre esserci un rapporto diretto tra la sua psicosi e le azioni che compie sulle sue vittime inoltre un serial killer agisce secondo procedura standard e invece Maurizio Minghella a volte aggredisce e le ruba le sue vittime a volte le violenta a volte invece le uccide nessuna procedura standard soltanto azioni per quanto terribili che a volte vengono compiute in conseguenza della reazione delle sue vittime Minghella è impulsivo disonesto incapace di conformarsi alle norme sociali è anche un manipolatore uno che per procurarsi da vivere sceglie vie illegali così come usa le minacce fisiche a scopo sessuale le sue vittime sono loro donne indifese e sfortunate in margini della società come territorio di caccia per sbranare e divorare speranze illusioni e sogni insomma le loro storie qualunque cosa sia in ogni caso Maurizio Minghella è tornato laggiù ai margini del mondo una storia minuscola che si consuma giorno dopo giorno nel caccere di opera vicino a Milano le sue vittime sono donne non giovani e non belle e soprattutto sole una donna morta si taglia facilmente in un'ora al massimo tutto è già spacciato Cesare Serviatti lo diceva fino da quando era bambino da grande avrebbe fatto il boia no anzi il tagliatore di teste i delitti posso averne commessi altri cinque ma bisogna provarli grazie a tutti